Quando le linee sono così vicine, anche Rocky Fp è un cavallino discreto. La partenza è subito valida. Vediamo chi va davanti. Partita bene Rosellina. All'esterno è partito bene anche Rocky Fp, che fa segno che può stare davanti. E così Rocky Fp va al comando nei confronti di Rosellina. Poi il numero 5 di rarissima Slide SM. A largo cerca di avanzare Runy Mark, che è stato un po' incerto nella giravolta. Poi c'è anche Razzo Sam. Al comando Rocky Fp, che cerca di riprendere un po' in mano. Dopo 500 metri abbastanza veloci, in 12,8 come media al chilometro, fa 36,4 di totale. Rocky Fp, Rosellina, rarissima Slide, Razzo Sam. All'esterno Runy Mark, Rissa Del Prix, che si sta ricongiungendo, mentre Rosa Munda MSM è partita in grave ritardo. Non cambia molto, solo che Runy Mark prova a mettersi davanti a rarissima Slide SM, che non vuole cedergli la posizione. Quando si transita dopo 900 metri molto vivaci, a media di 1,14 al chilometro, è Rissa Del Prix esposta per andare in schiena a Runy Mark. I cavalli adesso transitano al passaggio al chilometro conclusivo, con Rocky Fp che fa sempre andatura. Rossellina sempre lì sotto, ha sbagliato, rarissima Slide SM, Runy Mark sul passo continua ad avanzare, nonostante non abbia visto mai la corda. Quando si attacca agli 800 finali, con un prezzale in 15,4. Al comando Rocky Fp, Runy Mark sul passo al lago, Rossellina sempre lì sotto, Rissa Del Prix in schiena. Mentre ha spostato anche Rosa Munda, che si è ricongiunta e punta in terza ruota. Al comando Rocky, all'esterno Runy, in terza ruota adesso Rissa Del Prix. Quando si va ai 700 finali, con Rissa Del Prix che dà il parziale e cerca di sopravanzare Runy Mark, che ha liquidato Rocky Fp. Si è liberata Rossellina, Rissa Del Prix non riesce a scendere davanti a Runy Mark. Adesso però insiste Dario Battistini e trova lo steccato, mentre Rossellina cerca di avanzare per andare in caccia della nuova battistrada. Rissa Del Prix, che liquida la curva, in vantaggio in retta d'arrivo, arriva Rossellina, di dentro sempre Runy. Rissa al comando, Rossellina che ci prova, Rissa che ha una lunghezza, che sta mantenendo sin sul palo. Rissa Del Prix, che va a vincere nei confronti di Rossellina e poi Runy Mark su Rosa Munda. La vittoria dunque per Rissa Del Prix, la penalizzata Dario Battistini, 31-3 a chiudere, 15-9 per la retta d'arrivo, 2-27 la quota per chi vince. Rissa Del Prix, scuderia il corallo, Elena Giordano Battistini, guida il fratello Dario, 7-4-3 è tutto.